Questa amministrazione ha voluto dedicare questi interventi soprattutto alle famiglie e quindi ai bambini. I momenti di tempo libero vengono spesso in città vissuti all'interno dei parchi, dei parchi gioco in particolare, quindi i parchi gioco un po' alla volta li stiamo sistemando con interventi programmati. Parchi gioco e giardini scolastici, restituirli a famiglie e bambini. E' questo l'obiettivo dettato dal sindaco Francesco Rucco alla sua amministrazione. Un progetto da portare avanti velocemente in una corsa contro il tempo. L'ultimo sopralluogo stamattina nella scuola dell'infanzia di Via Lattes a Vicenza e in Via Riello, dove sono in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione di otto parchi gioco e del giardino scolastico per un valore di 100.000 euro. Oggi siamo alla scuola materna Lattes, siamo in prossimità di Via Riello, è una scuola materna che vanta una sua tradizione, che necessitava di interventi anche all'esterno, interventi quanto mai necessari durante la pandemia, ma anche prima. Siamo intervenuti sistemando il giardino e soprattutto sostituendo vecchi giochi che andavano veramente ad essere pericolosi per i bambini e quindi assolutamente improponibili. Li abbiamo smaltiti e li abbiamo sostituiti. Siamo andati a sanare delle criticità vecchie di anni, sostituendo dei giochi che erano diventati troppo vecchi, vetusti, addirittura inutilizzabili o anche completamente da rimuovere. Li sostituiamo con dei giochi moderni, a norma soprattutto, ma con una caratteristica, in plastica riciclata e alluminio riciclato, quindi anche con un occhio all'ambiente. Rispondiamo così alla sicurezza dei parchi gioco e di una scuola, ma soprattutto alla sicurezza dei nostri bambini.